A spasso per Monte Catalfano, sabato prossimo il secondo appuntamento dalle 19 alle 24 del progetto per promuovere e valorizzare il territorio bagherese ideato dai giovani di Naturando Sicilia. Naturando Sicilia per l'appuntamento del prossimo sabato accompagnerà gli escursionisti per i principali sentieri del parco di Monte Catalfano nelle ore serari per ammirare il cielo notturno ad occhio nudo e con l'ausilio di un telescopio professionale. A disposizione di tutti. Gli esperti e l'associazione illustreranno con gli occhi rivolti al cielo le principali costellazioni del cielo d'autunno tra scienza e mitologia e sarà possibile ammirare al telescopio i principali pianeti e il sistema solare. La partecipazione all'evento è gratuita ma è consigliato un abbigliamento adeguato per l'escursione, scarpe comode da tennis o da trekking, giubbino, pantalone lungo e una scorta d'acqua di almeno mezzo litro. Il progetto di promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio bagherese è stato finanziato con un'iniziativa comunale Decidi Tu, democrazia partecipata che utilizza quote del gettito regionale dell'IRPEF equivalenti al 2% delle somme trasferite ai comuni in forma di democrazia partecipata. L'orario del raduno è previsto alle 19 all'ingresso del parco di Monte Catalfano, area attrezzata. Grazie. Grazie.